Viene dall'Arkans la promessa dell'America, i democratici tornano alla Casa Bianca, sconfiggono Bush padre che era riuscito a vincere la guerra fredda e a promettere il benessere all'America e si affidano a una coppia giovane, Bill e Hillary, la cui scommessa è quella di dare all'America un nuovo volto, una nuova speranza. Resteranno alla Casa Bianca per 8 anni e resteranno ad oggi fra i Presidenti più amati e al tempo stesso più odiati.